Ciao cari amici, il 25 maggio sono apparsi in rete le foto di radar danneggiato, si tratta di un sistema di allarme rapido che si trova nella città di Armavir e ovviamente queste foto hanno suscitato molte polemiche, domande ma soprattutto ha suscitato le polemiche il fatto che le autorità russe per quasi due giorni e mezzo non hanno commentato queste foto non hanno approfondito queste notizie che giravano invece nel segmento online anche nel segmento occidentale soprattutto e si aspettava una durissima risposta da parte della Russia perché ovviamente questo è un grave danno ai sistemi di difesa nucleare io per due giorni non ho approfondito queste notizie, non ho fatto video, ho semplicemente pubblicato le foto dicendo che ci sono queste foto che girano online non ci sono ancora le notizie ufficiali perché sottolineo i russi non hanno commentato ufficialmente queste notizie e anche in precedenza ad esempio è successa una cosa simile quando sono state condivise alcune immagini di un radar danneggiato e poi è venuto fuori che si è trattato di un palese montaggio di una fotografia quindi hanno manipolato una foto e hanno detto che hanno colpito un radar nei pressi di Carelia comunque qua invece a quanto pare si tratta di un vero e proprio danno avvenuto a un sistema dei radar io oggi ho pubblicato sul mio canale privato Telegram un materiale ampio ho raccolto un po' di informazioni su quello che è successo e adesso visto che molti di voi mi hanno scritto ieri e altro ieri nei vostri commenti mi hanno chiesto di commentare questa cosa, di far sapere cosa dicono in Russia io vi farò leggere, vi leggo quell'articolo che ho scritto sul mio canale privato Telegram attacco la stazione radar di Armavir ovviamente fa parte di un piano degli Stati Uniti e la Nato che cercano di portare il conflitto a un nuovo livello cerca di sprovocare la Russia per l'utilizzo delle armi nucleari la mattina del 25 maggio si è saputo che l'Ucraina e l'Occidente hanno effettuato un attacco con droni senza precedenti contro il radar russo di allarme rapido di Armavir secondo gli esperti ci sarà sicuramente una risposta russa a questa azione ma non ora e forse in una forma diversa l'attacco alla struttura strategica russa è stato messo a tacere per due giorni dalle autorità russe secondo i media locali della regione di Krasnodar l'attacco con i droni al radar strategico di Armavir è avvenuto il 23 maggio tuttavia negli ultimi due giorni nei media, nei ufficiali russi, nei canali militari di Telegram hanno menzionato neanche una parola sull'incidente giravano le foto senza grandi approfondimenti alcuni addirittura scrivevano che non si sa se queste foto sono reali oppure si tratta di un fotomontaggio comunque il primo a interrompere il silenzio è stato il senatore russo Dmitry Ragosin ex capo di Roscosmos tra l'altro è stato per primo a parlare dopo che le foto delle torri radar danneggiate sono apparse sui social network Ragosin ha accusato gli Stati Uniti di essere coinvolti nell'attacco con i droni alla stazione radar e ha ricordato che la stazione di Armavir fa parte della forza di deterrenza nucleare russa secondo la dottrina militare un attacco a una struttura simile potrebbe essere un pretesto per Mosca per usare le armi nucleari naturalmente è possibile ipotizzare che l'attacco sia stato effettuato da Kiev di propria iniziativa ha detto Ragosin tuttavia dato il coinvolgimento di Washington nel conflitto possiamo scartare la versione secondo cui gli Stati Uniti non sapevano dei piani di Kiev per colpire il sistema di difesa missilistico russo ora Washington dovrà rispondere nella misura più ampia possibile non siamo nemmeno sulla soglia ma già sul bordo oltre il quale la sicurezza strategica delle potenze nucleare inizierà a crollare ha detto Ragosin nella recente intervista che ha rilasciato ai giornalisti russi qual è stata la reazione dell'Occidente? l'attacco alla stazione radar strategica russa di Armavir è stato notato anche in Occidente l'attestata Warzone si è chiesta quale sarebbe stata la reazione della Russia e come avrebbe influito sulla situazione del conflitto ucraino secondo Warzone l'attacco sarebbe stato confermato da immagini satellitari scattate da Planet Labs il 23 maggio Armavir è sede di radar di altissima frequenza parte del sistema russo di allarme rapido per i missili balistici nucleari si tratta del primo attacco a una struttura legata alla difesa strategica della Russia esso indica una nuova dimensione del conflitto per quanto riguarda il potenziale uso di armi nucleari i due complessi Vorone e Shdiem nel sito sono una parte fondamentale della rete strategica di allerta precoce della Russia anche la loro perdita temporanea comprometterebbe la capacità della Russia di rispondere alle minacce nucleari hanno detto gli esperti occidentali di Warzone le analisti occidentali hanno ricordato anche che un attacco all'Armavir potrebbe sollecitare le condizioni che il governo russo ha incluso nel 2020 nell'elenco dei passi che potrebbero provocare un attacco nucleare di ritorsione hanno ricordato che alla vigilia dell'attacco sono iniziate le esercitazioni delle forze nucleari non strategiche della Russia io vi ho raccontato di questo cari amici i russi hanno fatto queste esercitazioni sul territorio russo e poi anche sul territorio belorusso e non hanno utilizzato solo i mezzi di portata delle armi nucleari tattiche ma sono stati utilizzati anche i mezzi che portano le armi nucleari strategiche in questa esercitazione per cui si tratta sicuramente di un'esercitazione importante resta da vedere esattamente come la Russia reagirà a un attacco ad Armavir ciò avrà gravi conseguenze in ogni caso e l'effetto collaterale del conflitto ucraino assumerà una nuova forma hanno dichiarato gli esperti occidentali la stazione radar Voronezhdm è un radar a lungo raggio sopra l'orizzonte progettato per rilevare oggetti spaziali e aerodinamici, missili balistici e da crociera la stazione è stata costruita tra il 2009 e il 2013 ed è in grado di rilevare obiettivi a una distanza fino a 6.000 km in totale ci sono circa 10 complessi di questo tipo sul territorio russo ognuno dei quali è unico la Russia non è in vena di una risposta speculare al momento gli esperti russi si chiedono se Mosca infliggerà agli americani un danno speculare in risposta all'attacco alla stazione radar di Armavir e se si trattasse di un incidente organizzato o di un attacco terroristico anonimo del resto la Nato possiede più di due dozzine di radar di questo tipo in diverse parti del mondo in questa occasione il politologo russo Alexei Bilov ha fatto un'interessante dichiarazione ne dubito fortemente ha detto Bilov molto probabilmente questa situazione palese sarà come al solito frenata dalla Russia la Russia attualmente ha i piani completamente diversi e un'escalation aperta potrebbe seriamente disturbare questi piani penso che l'attuale leadership americana voglia davvero che questo incidente sia un innesco per un nuovo livello di confronto tra la Russia e la Nato la Russia sta concentrando le truppe ai confini delle regioni ucraine di Sume e Cernigav tutto lascia pensare che intendiamo organizzare anche lì una zona di sicurezza cuscineto e lanciare un'offensiva contro le posizioni dell'esercito ucraino che come si è visto lungo i confini con la Russia si è rivelata del tutto impreparata ecco perché è completamente fuori dalla nostra portata una resa dei conti con l'America e la Nato per l'attacco dei droni alla stazione radar di Armavir ha sottolineato l'esperto dall'altra parte ha proseguito Bilov pochi si impegnano a prevedere l'evoluzione della situazione la nostra reazione a questo scoppio dipende da molti fattori fino a poco tempo fa ad esempio la nostra guerra si svolgeva secondo il principio né traballante né traballante è un modo di dire russo che vuol dire rimanere sempre in mezzo senza traballare da nessuna parte diciamo grazie a Dio le autorità hanno ora messo a capo del Ministero della Difesa una persona professionale che ha iniziato a sistemare le problematiche accumulate sotto il Ministro Shoigu è necessario formare una squadra progressista ed efficace nel Ministero Militare mentre questo processo è in corso sarebbe strano parlare di una risposta agli Stati Uniti non scommetterei un centesimo sul fatto che ora costringeremo l'Occidente a rispondere al tentativo di distruggere la nostra stazione radar ha concluso Alexei Bilov quale strutture della Nato potrebbero attaccare la Russia in risposta ricordiamo che per rilevare i lanci di missili intercontinentali gli Stati Uniti hanno creato un sistema a due livelli basato su satelliti che monitorano la superficie terrestre e su radar all'orizzonte che avvertono degli attacchi missilistici e danno istruzioni ai sistemi di difesa missilistica alcuni di essi si trovano proprio negli Stati Uniti e in Gran Bretagna e qualsiasi attacco ad essi potrebbe effettivamente provocare un attacco nucleare da parte delle anglosassoni ma ci sono anche strutture che si trovano in luoghi difficili da raggiungere o vicino ai confini della Russia una di queste strutture commissionata nel 1969 è il complesso radar Altaïr situato sul attollo di Quayalain nel Pacifico Altaïr fa parte di un progetto di tracciamento e identificazione a lungo raggio della Nato chiamato ARPA, Advanced Research Agency negli ultimi anni l'importanza del complesso Altaïr per il sistema di controllo dei lanci missilistici nel mondo è aumentata inoltre secondo gli esperti senza questo complesso sarebbe impossibile condurre i test dei sistemi di difesa missilistica statunitensi nel sito di prova di Barking Sense un altro possibile sito per l'attacco sembra più fresco nel 2021 un nuovo radar il Long Range Discrimination Radar LRDR è entrato in funzione presso la base Clear Space Command in Alaska in pratica Keremici è un altro radar che i russi potrebbero colpire voi sapete che tra Stati Uniti d'America e la Russia nella zona di Alaska c'è stretto di Bering quindi sono abbastanza vicini e questo può essere anche un altro sito di ritorzione da parte dei russi per il colpo al loro radar la missione del LRDR è rilevante è rilevare le testate a lungo raggio e impartire istruzioni di puntamento ai missili intercettori il radar LRDR è stato creato dalla Lockheed Martin Corporation insieme alla giapponese Fujitsu si tratta di una stazione di nuova generazione con elementi a stato solido basati su nitrio di gallio e array di scansione elettronica attiva opera nella gamma di frequenza da 2 a 4 GHZ e il suo costo è di 784 milioni di dollari l'esercito della NATO ha a disposizione anche una serie di stazioni nel nord dell'Europa in Norvegia sono presenti due stazioni radar per monitorare gli oggetti spaziali e lanci di missili dalla Russia il primo di essi è entrato in funzione nel 1998 nei pressi della città norvegese di Varde a 80 km dal confine russo si tratta del radar AN-FPS 129 noto anche come Globus 2 il radar con una potenza di impulso di 200 kW è stata un'antenna con un diametro di 27 metri e opera nella gamma di frequenze di 10 GHZ un'altra struttura di ricerca in Scandinavia è un complesso radar EISCAT European Inconnected Scatter Scientific Association il radar EISCAT principale si trova al Spitsbergen vicino alla città norvegese di Longyear mentre altre stazioni riceventi si trovano nella città finlandese di Sodankila e in quella svedese di Kiruna nel 2008 il complesso è stato modernizzato e ora i radar EISCAT come stazioni a doppio uso sono in grado di monitorare i lanci di missili anche i radar AN-FPS 132 Block 5 costruito da Wrighton Corporation in Qatar per un miliardo di dollari dovrebbe essere presto operativo secondo la versione ufficiale il radar AN-FPS 132 Block 5 in combinazione con i sistemi di difesa missilistica statunitensi dovrebbe parare le minacce provenienti dall'Iran ma gli esperti anche notano che la stazione radar Over the Horizont situata a 40 km dalla capitale del Qatar permette di osservare perfettamente lo spazio sopra la Russia e la Repubblica Popolare Cinese secondo gli esperti tutte queste strutture situate lontano dalle Stati Uniti potrebbero essere l'obiettivo di una rappresaglia della Russia per l'attacco dei droni alla stazione radar di Armavir gli autori potrebbero essere piccoli gruppi di forze speciali in grado di atterrare inosservati vicino alle strutture della NATO da navi o sottomarini per piazzare potenti cariche esplosive sotto i radar e i complessi di supporto ma uno sviluppo del genere non richiede solo mesi di preparazione e operatori super specializzati ma anche la volontà politica della leadership russa e proprio di questo cari amici adesso molti parlano perché a quanto pare la politica russa in questo momento cerca di fare di tutto per evitare l'escalation nucleare che l'Occidente cerca di provocare è chiaro che dal punto di vista geopolitico noi ci troviamo in una situazione abbastanza pericolosa difficile ma anche non molto complessa nella sua essenza noi abbiamo il mondo anglosasso nel Stato Unito d'America e la Gran Bretagna per lo più Stato Unito d'America che è la Gran Bretagna in questo caso che soffre molto per via del suo declino il mondo occidentale declina perché non è più in grado di mantenere lo stesso potere che aveva esercitava nel mondo negli anni passati noi ci troviamo di fronte a un declino economico politico culturale sociale del mondo occidentale noi vediamo proprio la la sua lenta morte mondo occidentale ovviamente definito come mondo dominato dall'egemonia delle Stati Uniti d'America e ovviamente Stati Uniti d'America soffrono tantissimo per questo e cercano di fare e cercano di fare ogni cosa pur di evitare che emergano le altre potenze perché sapete che nell'equilibrio che c'è a livello internazionale declino di un paese non avviene di per sé cioè non è che un paese si svolgeva le proprie attività diventava sempre più prospero e qua improvvisamente ha cominciato a declinare non è che si implode dall'interno e basta il fattore del declino dal punto di vista internazionale è caratterizzato dalla crescita di altri paesi quindi il problema dell'Occidente e degli Stati Uniti d'America non sta soltanto nel fatto che il loro sistema economico sta cedendo che loro non riescono più a garantire il livello dei consumi che hanno sviluppato e così via il problema è che gli altri paesi si stanno diventando forti e ovviamente diventano concorrenti degli Stati Uniti e loro non sopportano proprio questo loro non vogliono accettare il fatto che nel mondo ci sia qualcun altro che possa in qualche modo contrastare il loro potere assoluto loro credono di avere potere assoluto quindi la nascita della Russia forte la Cina che immerge altri paesi del mondo il sud del mondo il sud globale tutti questi cambiamenti ovviamente danno fastidio agli Stati Uniti d'America gli Stati Uniti d'America in questo caso sono molto pericolosi perché sono un paese gigante sicuramente una superpotenza che hanno armi di distruzione di massa hanno tutti i tipi di armamenti e strumenti che ha qualsiasi superpotenza però a livello politico adesso hanno mentalità di un infante offeso loro sono offesi perché loro sono abituati che tutti quanti nel mondo si comportano da schiavi loro sono il paese più bello più democratico più libero e così via insegnano gli altri anche a forza a suon di bombe come bisogna essere democratici e qua improvvisamente qualcuno non è d'accordo con il loro metodo con le circostanze che loro creano non è d'accordo con i loro valori anzi non accetta i loro valori anzi dice che i loro valori sono distruttivi e propone gli altri propone l'alternativa loro non sono per niente d'accordo con stesse idee dell'esistenza del mondo BRICS cioè del del mondo multipolare dove non c'è un solo comandante un solo sceriffo ma ci sono diversi paesi che scelgono la loro via e il loro percorso questo rende gli stati d'America pericolosi perché con questa mentalità da infante offeso loro stanno sviluppando una guerra che deve distruggere secondo loro piano o secondo loro visione più che piano questa è visione è una visione a lungo termine loro vogliono creare tante guerre tante situazioni destabilizzanti per fermare la crescita di altri paesi per fermare la crescita di altri polli di potere un polo di potere ad esempio potrebbe crearsi in Europa l'Europa occidentale è un luogo dove una grande propulsione tecnologica insieme con una forma abbastanza funzionale dell'economia può creare una perfetta simbiosi con la Russia con quello che Russia può offrire e quindi l'Europa diventa un polo di potere con i propri interessi geostrategici geopolitici sia nell'ambito dell'economia che nell'ambito militare e ovviamente Stati Uniti d'America questa cosa non la possono assolutamente accettare perché loro sono abituati negli ultimi cent'anni fare in Europa i padroni e qua improvvisamente c'è un pericolo che l'Europa diventerà sovrana l'Europa avrà i propri interessi al di fuori di quello che sono gli interessi statunitensi ma soprattutto il pericolo che l'Europa smette di essere uno schiavo degli Stati Uniti quindi mette in difficoltà anche il progetto della Nato e così via ovviamente calcolando una cosa del genere per gli Stati Uniti è meglio Europa distrutta devastata dalla guerra nucleare che un'Europa che diventa un polo di potere quindi gli Stati Uniti sono pericolosi per quale motivo perché in questa fase storica loro preferiscono distruggere che lasciar perdere loro preferiscono devastare gli altri paesi distruggere azzerrarli pur di lasciarli al loro percorso geopolitico al loro percorso storico questa è una cosa terribile e pericolosissima per questo motivo in questa maniera così sfacciata Stati Uniti d'America stanno provocando la guerra nucleare nel mondo soprattutto stanno cercando di provocare la Russia perché ciò che viene fatto adesso questo colpo contro i radar è chiaro che questo è un'operazione statunitense tra l'altro lì per l'ennesima volta vediamo gli ucraini che come degli idioti totali senza comprendere cosa succederà stanno seguendo le indicazioni statunitensi senza capire che il primo paese che sarà spazzato via sarà proprio l'Ucraina però loro loro quanto pare sono talmente radicalizzati che di queste cose o non pensano o se pensano allora pensano in maniera esaltata quindi sono pronti a morire tutti quanti milioni di persone bruciate nella guerra nucleare pur di far contenti i loro padroni d'oltreceno questo dice lunga sulla qualità morale degli ucraini della loro leadership del loro potere e quindi gli unici che adesso stanno continuando a tenere diciamo nervi saldi e cercare di evitare che la guerra nucleare diventa una realtà sono proprio i russi i russi cercano di non rispondere in maniera violenta non rispondere in maniera specchiata come si dice agli attacchi degli Stati Uniti d'America stanno seguendo il loro percorso i loro piani in Ucraina e cercano di allontanare il più possibile la prospettiva di uno scontro nucleare speriamo che i russi continueranno a fare questo quando io leggo alcune cose qualcuno vi dice ecco i russi devono rispondere devono usare armi nucleare tattiche devono usare questo devono usare l'altro amici qualsiasi qualsiasi piggioramento o qualsiasi inasprimento di questa guerra porterà sicuramente il mondo verso l'apocalisse nucleare quindi noi dobbiamo tutti sperare che innanzitutto che questa guerra finisca il più presto ma poi che questa guerra possa finire con l'utilizzo delle normali armi convenzionali che né i russi né qualcun altro inizia a usare le armi nucleari e che da queste provocazioni non scatta un vero e proprio apocalisse nucleare speriamo che riusciremo a evitare questa cosa speriamo nei nervi saldi di Putin e adesso io sono sicuro che non ci saranno le risposte contro le stazioni statunitensi statunitensi perché questo sarebbe sicuramente l'inizio di un confronto ormai nucleare secondo me i russi utilizzeranno altri modi altri metodi vediamo quale ma sicuramente i russi continueranno a colpire l'interesse degli stati uniti d'america nella guerra contro l'occidente sul territorio dell'ex Ucraina io sono sicuro che proprio umiliando l'occidente in prima linea i russi faranno la più grande vittoria i russi hanno già dimostrato al mondo intero che il segmento militare occidentale è stato molto gonfiato dalla propaganda stessi mezzi militari occidentali non sono così perfetti e anche indistruttibili come li descrivevano da decenni in vera e propria guerra aperta sul campo l'occidente non riesce a tenere la testa la Russia e i russi con forze minori stanno comunque conquistando i loro obiettivi stanno andando verso la verso il loro obiettivo primario sul territorio dell'Ucraina e questo a mio avviso in sé è una risposta equilibrata e molto anche dolorosa all'estate cinese d'America all'occidente che adesso come bambino offeso vuole spaccare tutto vuole far vedere a tutti che lui è arrabbiato vuole attirare l'attenzione dei grandi però i grandi continuano stare calmi continuano a fare il loro percorso lasciando bambino diciamo arrabbiato senza attenzione perché tutti lo sanno che se bambino veramente sbaglierà e per primo lancerà i missili nucleari sarà polverizzato insieme con mezzo mondo e quindi tutti capiscono questa cosa e lo capisce anche bambino in sé però finché può fare queste scenate le fa e secondo me non è questo radar non è il prima simile provocazione che ci sarà probabilmente ci saranno anche altri importante è che i russi non reagiscono in maniera troppo violenta ecco che continuano continuano a tenere nervi saldi e andare per la loro strada senza fare i passi falsi amici vi ringrazio per la vostra attenzione come sempre vi invito di approfondire queste altre notizie sul mio canale privato telegram il link per abbonamento troverete nella descrizione a questo video sul mio canale io racconto tante informazioni che non vengono approfondite dal mainstream occidentale dai nostri media italiani sul mio canale non ci sono le censure quindi io posso raccontare e condividere tutte le informazioni che di solito vengono censurate in occidente vi invito di approfondire perché così aprirete un po' la vostra mente e cambierete sicuramente in meglio la qualità della vostra informazione il link per abbonamento si trova nella descrizione a questo video se volete sostenermi qua su youtube vi invito come sempre di iscrivervi al mio canale e commentare i miei video vi ringrazio per la vostra attenzione per le vostre donazioni per la vostra preziosissima attività sul mio canale per i vostri commenti per le vostre opinioni tutto questo è molto importante per il mio lavoro qua su youtube vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene